Un omaggio allo sport pulito. Questa mattina a Palazzo San Giacomo incontro l'istituzionale con il Panathlon Club di Napoli in occasione dei suoi 60 anni di vita. La finalità del Panathlon è la promozione dei valori morali e sostanziali nella pratica sportiva e della insostituibile funzione che lo sport pulito deve avere nell'era moderna, combattendo i guasti provocati nello sport dalla pressione di interessi soprattutto economici. Come si rimoralizza lo sport? È evidente che negli ultimi anni c'è stata una deriva forte verso il business nello sport, un business che troppe volte, molte volte ha deviato e ha fatto deviare dai valori che lo sport può dare, specie nelle nostre realtà, nelle realtà difficili. Il nostro invito al Panathlon è quello di lavorare assieme a noi nelle scuole, nei luoghi dello sport per portare questo messaggio di sport pulito. Attualmente il Panathlon International è presente in quattro continenti e 29 paesi ed in Italia conta 168 sezioni e 8.000 soci. Tutto ciò che punta allo sport alla nostra approvazione, sport come lealtà, come impegno di vita quotidiana, come prevenzione per i rischi della salute, come valori di solidarietà, di accoglienza, punto di riferimento per i giovani. Lo sport a Napoli è popolare e lo deve essere sempre di più. Noi se altro siamo impegnati insieme alle associazioni e a tante altre persone per aprire sempre di più presidi dello sport nella nostra città. Lo stiamo facendo costantemente. Consideriamo anche lo sport un modo per affrontare la crisi economica.